benvenuti in grado al suo auto io sono massimo e oggi vi farò della dr 5 luci diurne con tecnologia a led anteriori e anche in pari posteriore con luci di posizione a led 550 sono i litri del vano carico della dr 5 nel caso in cui l'autovettura come in questo caso si trasforma benzina e benzina gpl quindi con la doppia alimentazione diverranno 430 215 55 16 questa dimensione di cerchi lega che dr offre di serie sulla dr 5 nell'allestimento cross ed elegance in accessorio si possono avere cerchi lega da diametro 17 pollici con una gommatura a 215 60 comando alza vetri che assieme a tutta la pulsantiera dell'autovettura è rete illuminata a led nel termine a questo che anche il quadro strumenti quindi in abbinato alla pulsantiera ea led e questo sicuramente da un'ottima impronta a quello che è il quadro strumentazione che in questo caso come vediamo c'è il livello dell'acqua livello carburante un computer di bordo che ne determina grazie al rapporto consumi il consumo istantaneo l'autoradio che è ausiliata ai comandi a volante dell'autoradio ha possibilità di lettura di chiavette usb e cd motorizzazioni 1.6 e 2.0 di cilindrata per entrambi con alimentazione benzina benzina gpl e benzina metallo si può avere anche la versione con cambio automatico e per la versione 2.0 di cilindrata riservata con la trazione 4x4 baschette di liquidi disposte in maniera molto ordinata ampio spazio e accessibilità attorno al motore questo chiaramente ne determina una grande semplicità nelle manutenzioni e le lavorazioni successive di dn5 mi ha detto molto ora non restate tanto che provarla vi aspettiamo